Cari amici ben ritrovati, il vortice ciclonico alimentato da aria molto fredda di origine artica dispensa precipitazioni su Emilia e dal sud, con maggiore coinvolgimento del Mediadriatico, dell'Est Sardegna e del Meridione, con neve sino a quote basse. Nel corso dei prossimi giorni la depressione si andrà lentamente colmando, anche se l'instabilità rimarrà attiva sulle regioni meridionali e oltretutto a peggiorare la scena una depressione afro-mediterranea in arrivo sul centro Italia per il fine settimana determinerà ulteriori piogge abbondanti tra centro e sud. All'inizio della prossima settimana ci troveremo di fronte ad un tempo variabile, ma il ritorno dell'alta pressione potrebbe già tenerci compagnia per qualche giorno, stabilizzando il tempo. Di questo vi daremo informazioni più dettagliate nei prossimi giorni. Vediamo adesso il tempo per la giornata odierna. Nuvoloso al nord con precipitazioni, al centro nubi regolari con rovesci su Sardegna, Mediodriatico e zone interne di Umbria, Toscana ed Alto Lazio. Al sud instabile con piogge e qualche rovescio temporalesco alternato a schiarite. Sulla nostra provincia giornata nuvolosa con temporali e schiarite. Le temperature si manterranno su 11 gradi nei valori massimi registrati alle ore 12 e minime di 8 registrate questa notte alle ore 1. venti forti soffieranno da sud e da sud sud-ovest di moderata intensità nella sera, con il mare nello stretto di Messina mosso. L'intensità solare più alta si è registrata alle ore 13 con un valore UV di 1. Sul versante tirrenico piogge schiarite, le temperature si porteranno a 11 gradi diurni e 7 nella notte. Venti moderati soffieranno da sud-ovest, da sud nella sera con il martirreno mosso. Sul versante ionico piogge schiarite con temperature massime di 9 gradi e minime di 5. Venti moderati soffieranno da sud sud-ovest e da sud-ovest nella sera con il marionio mosso. Nella giornata di mercoledì 18 gennaio, così come giovedì 19, tempo in miglioramento al nord, anche se ancora molto freddo, mentre l'instabilità persiste al sud e sull'Abruzzo. Sulla nostra provincia giornata caratterizzata da piovaschi intermittenti. Le temperature si porteranno a 11 gradi le massime previste alle ore 13 e minime di 8 alle ore 6. Venti moderati soffieranno da sud con mari mossi. L'intensità solare più alta si registrerà alle ore 10 con un valore UV di 1. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani.